Ottima medaglia d'argento per Manfredi Rizza nella Kanoa Sprint 200 metri di queste Olimpiadi Tokyo 2020. Grazie a una vittoria in batteria, un secondo posto in semifinale, una gara davvero incredibile, straordinaria in finale del Sivisa al photo finish. Per l'Azzurro un tempo di 35.080 a 45 millesimi da Sandor Tokka, ungherese, e davanti all'inglese Liam Oert. Importante dunque il ruolo di Manfredi Rizza, che ripeto va a ottenere una bellissima medaglia d'argento, quindi un secondo posto nella Kanoa Sprint 200 metri di queste Olimpiadi di Tokyo 2020, o meglio 2021, è bravo, è in gamba, è straordinario, è capace di fare grandi cose, Manfredi Rizza con questa medaglia dimostra di avere veramente grande, grande, talento, grande, bravo, grande, capacità. Iscrivetevi al canale in andato in italiano, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto nei cari al prossimo video.